Un'altra premessa, chi fa questo tipo di attività è di rivolgersi a delle palestre preparate per l'insegnamento del Plan Maga, perché purtroppo bisogna stare attenti ai inventatori, ce ne sono molti in giro, che dichiarano di poter insegnare quello che neanche loro in effetti conoscono, dichiarano grandi maestri, grandi istruttori, quando non è la realtà, c'è bisogno di tanto lavoro e tanto tempo per diventare dei professionisti e insegnare questo tipo di attività. Poi, legandomi a quello che diceva il nostro responsabile, le donne, qualsiasi oggetto comune può essere un'arma per difendersi, la semplice penna che si porta in percetta, il telefonino, mi diceva. Un'altra cosa molto importante, specialmente per le donne, avete un'arma naturale, le unghie, chi porta le unghie e le unghie, se in caso è un'aggressione, al polso, è un'arma, molto semplice, quindi ci sono tanti, una semplice bottiglietta d'acqua, come diceva, il telefonino, la penna, anche il profumo, se portate il profumo in borsetta, c'è anche lo spray al peperoncino, quello per legge, quello che si può portare dietro, ma il semplice profumo, anche le chiavi dell'auto e dell'automobile, quella è un'arma, usata in modo efficace diventa un'arma. Infatti, questo. Poi più tardi faremo delle dimostrazioni di queste tecniche, a quale vorrei che partecipate, così le faremo tutti insieme, così vedrete personalmente di cosa si tratta, di quello che facciamo realmente, di quello che insegniamo. Vi ricordo ancora l'invito per oggi pomeriggio, aperto a tutti gratuitamente, quindi ci fa piacere se venite. Sono d'accordo che ci siano dei corsi che aiutano le donne a conoscere sia degli strumenti, ma anche a riuscire a fare in qualche modo una difesa personale, però... No, noi lavoriamo anche in modo... adesso abbiamo della difesa, però noi lavoriamo anche in una cosa psicologica, noi abbiamo anche i ragazzi ad affrontare una questione psicologica che si troveranno davanti quando succederà, spero mai... Allora, spero, infatti io ci tenevo a sottolineare che forse... Quando io veramente, almeno da quella mia esperienza clinica, quando ho sentito, oppure purtroppo, anche essendo donna, a volte mi sono trovata o seguita, oppure anche come psicologa, è capitato di... Siccome ho aiutato le donne maltrattate ad aver imprattato il muro del mio studio, no, oppure ho sentito la paura quando scendevo fuori dal mio studio, secondo me non c'è tecnica che ferma la violenza di un uomo, perché l'uomo... Allora non è... Non c'è... Ok, sono d'accordo, però bisogna lavorare, casomai, in associazione, almeno di rinforzare la donna, di far conoscere, uno, le diverse sfaccettature della violenza, due, aumentare la propria autostima, tre, scappare prima, perché se la donna ha contatto con l'uomo, ci muore. Assolutamente, noi diciamo che arrivare ai corsi del genere è l'ultima cosa. Però, allora, se fate questi corsi, allora ci deve essere... Io non so se ho accennato prima che la collega di... appunto di Grosseto sta creando dei punti rosa negli sport, non so se l'ho accennato questa cosa, comunque nei pronto soccorsi, che quindi si lavora di tipa. Allora, si può pensare, veramente vogliamo creare un cambiamento reale, di collaborare, perché è capitato anche a me, ma anche alla collega prima stava dicendo, in quanto donne, io lavoro anche in un poliambulatorio di finanzieri, quindi vedo la mentalità maschilista, no? In alcuni momenti. Oppure mi è capitato di fare carriera universitaria e di rinunciare, purtroppo, ahimè, perché è un'altra violenza che si fa alle donne, a volte anche di trovarci, se non ci stai comunque poi vieni oltre inbennata o squalificata e così via, ma mi è capitato anche di stare in un'occasione con un uomo che io meno male conoscevo dei modi per spostare l'attenzione. Quindi, oltre a imparare le ragazze, benvenga se vanno bene, però bisogna associarle a qualche altra cosa, perché se no rimane un po' riaffrita, se no non si spiega perché muoiono sette donne su dieci al giorno. C'è la donna, con l'uomo, con l'uomo aggressivo, non ce la fa. Noi non andiamo ad affrontare un cosiddetto combattimento con un uomo, tra le nostre tenni che sono mirate semplicemente nel momento di un'aggressione, riuscire a liberarsi e andare via. Noi non dobbiamo perché una mente è un ragazzo o una ragazza. Anche a livello emotivo, perché se una donna deve... Cioè, quello che prima io chiedevo un po' alle ragazze, cioè di imparare a creare una sensibilità di conoscere l'uomo deletto, perché spesso quando si arriva a difendere... Anche per questo, diciamo, quando si parcheggia la macchina... Mi piace questa cosa, la condivido, però secondo me bisogna essere fatta di più in equip. Cioè, veramente... Viene fatto un lavoro nel quale la donna deve imparare a guardarsi intorno, a vedere chi ha intorno, i movimenti di una persona, sono tante cose che ti fanno capire... Come no? Come diciamo un esempio, parcheggia con la macchina di giorno in un posto che ci sembra molto tranquillo. Quando andiamo a riprenderlo, si è al buio, arriva la paura. La paura è una nostra alleata. Prendiamoci conto, non è avere paura sbagliata, la paura ci aiuta tantissimo. La paura è un'ansia sana quando diventa patologico. Però, in quel momento, rendersi conto, arrivare già lì, la macchina è al buio, intanto metto il telefonino, pronto con il numero di emergenza che mi possa servire, l'altra mano, porto le chiavi dell'auto. Però non dovrebbe succedere mai. Arriva un'aggressione, come dicevo, il telefonino è un'arma, veniamo presi, colpiamo, colpiamo, scappa via. Anche il profondo, esattamente, funziona esattamente come il cosiddetto spray al piperoncino, quello legale. Lo si prende, si mira agli occhi, è una spazzata veloce, molto lunga, dà fastidio, ci dà quei due o tre secondi, l'aggressore viene, andiamo via, comunque scappare, poi gridare e chiedere aiuto, perché non è che andiamo ad affrontare un combattimento con un'altra persona, evitare, assolutamente, colpiamo e andiamo via. Questo è tutto il nostro insegnamento, non andiamo a fare dei veri e propri combattimenti, dobbiamo soltanto riportare, come si dice, la pelle a casa, evitare l'aggressione, colpire e andiamo via. Poi chiedere aiuto, gridare se stiamo per strada, anche se è di notte, cioè qualcuno sveglierà, comunque così attiriamo attenzione e chiedere aiuto, questo sì, ma è di fare gli eroi, come si dice oggi, perché non è un buon consiglio. Questo è un po'... Ah, abbiamo un collegamento con... Abbiamo un collegamento con il maestro Enzo Di Pasquale, responsabile del PDS, Crown Maga Federation, che mi voleva salutare. Enzo, sei emozionato? Ah, sei emozionato, andato io. e credo da l'altro, vediamo che conseguenze. Enzo, ecco l'è. Enzo, puoi parlare liberamente, adesso stai qua in collegamento, vai. Sì, buongiorno a tutti quanti, chiedo scusa, se non ho potuto presenziare un tantissimo evento, ma ho pochi problemi di salute, i miei di salute mi hanno costretto a casa. Questa è un'importante iniziativa, a tutti i miei di salute, da Pino Mera Cagliati, da Pino Mera Cagliati, da Pino Mera Cagliati, da Pino Mera Cagliati, da tutti quanti quelli che hanno collaborato a questa fantastica situazione. La questione femminile è un argomento che bisogna prendere molto con le pizze, è un discorso molto delicato, bisogna affrontarlo, avere anche una vera voglia, la capacità di poterlo affrontare, perché comunque le statistiche parlano chiaro, bisogna fare sempre molta attenzione. e io direi, consiglio sempre, vivamente, per le ragazze, in volte la maschilità, la nuova, la nuova, come dico io, di avvicinare alla difesa personale, perché oggi giorno, direi, dipende di questi punti che si tratta, è un'altra situazione importante. Concludo con dei ringraziamenti ancora a tutti quanti, a 10 austi, a Castelforte, e naturalmente, saluto voi stesso a tutti. Grazie, e buona giornata, buon po' sempre. Grazie a me, spesso di Pasquale, e come sempre ci dà delle utilissime politicizzazioni sulle tecniche da utilizzare in caso di aggressione. Allora, adesso potremmo andare avanti con le tecniche di dimostrazione. c'è qualche volontaria da,